Buonasera, forse vi trovate a tavola, forse state già pensando a come passare la serata, forse avete degli impegni. Ecco, vorrei condividere con voi una preghiera da questo luogo in cui ci sono tanti motivi di dolore. Questa è la chiesa di San Giuseppe ai Padiglioni del Policlinico di Milano. Questo è l'altare della Madonna che raccoglie tutte le preghiere dei figli per dare loro consolazione. Preghiamo da qui, preghiamo con tutti i malati che qui al Policlinico sono ricoverati. Preghiamo per tutte le persone che voi conoscete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando la sofferenza sconvolge la vita, quando il dolore tormenta il corpo e la mente, la fede è messa alla prova. Che cosa ho fatto di male per soffrire così? Perché Dio non si ricorda di me e di noi e l'oppressione del male non ci lascia respiro. L'angoscia per il presente, per il futuro, per sé, per i propri cari, toglie il tempo e la voglia di pregare. I pensieri si fanno confusi, i giorni sono tutti uguali, le feste diventano insignificanti. Benedetti coloro che stanno vicino ai malati con parole di fede e di speranza. Benedetti i cappellani degli ospedali, le suore, i ministri straordinari della comunione. Benedetti gli amici e i parenti che visitano i malati e dicono una preghiera con loro e per loro. Il Signore è crocifisso, dice la verità di Dio. Ecco dov'è Dio, sulla croce, straziato dal soffrire. Mio Signore e mio Dio, ecco come Dio salva, vicino a ciascuno, a trasformare ogni situazione in occasione per amare. Preghiamo con poche parole, con le giaculatorie che possiamo ripetere anche quando siamo provati dal dolore. Mio Signore, mio Dio, Signore, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Ave o Maria, prega per noi. Io vi benedico e vi incoraggio a continuare a pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. Buona serata.